compravendita conforme il podcast sugli immobili conformi prodotto da carlo pagliai circolano le prime bozze di proroga del super bonus e dei vari bonus edilizi minori vediamo quali sono gli scenari a oggi 5 novembre 2021 appunto è una bozza può cambiare di tutto da qui a quando verrà approvata in via definitiva diciamo teniamo d'occhio i vari emendamenti e verranno poi aggiunti discussi nelle commissioni parlamentari e poi appunto nell'approvazione bene prima ad andare avanti vi presento carlo pagliai ingegnero urbanista miei riferimenti facebook linkedin instagram il mio blog a cui potete chiedere pareri tecnici e consulenze e inoltre vi ricordo il mio canale youtube e telegram ok mettete like condividete iscrivetevi campanellina come al solito direi di andare dritti al punto perché c'è tanto materiale c'è tanta carne al fuoco proprio perché tanti di noi tecnici hanno già programmato e avviato tutta una serie interventi queste bozze questa bozza ne commentiamo una che vedo circolare potrebbero potrebbero scompaginare i piani di molti c'è tutto il problema delle villettoni familiari sta un po mettendo in allarme vediamo se facendo varie pressioni anche con questi video quindi speriamo questi video commenti che producono arrivino ai piani alti e si possa migliorare diciamo il testo bene in sostanza il legislatore sembra abbia mostrato interesse a prorogare anche i bonus edilizi minori dopo lo vediamo allora questo è l'articolo 8 per ora della bozza ancora suscettibile di cambiamenti però si parte da qui oggi 5 novembre 2021 siamo in questo punto in tanti mi avete domandato ma ci rientro non ci rientro verrà prorogato cosa verrà prorogato e fino a quanto partiamo dal superbonus perché è un po complicato e venitemi dietro superbonus 110 sia eco che sisma articolo 119 del decreto rilancio e siamo lì dentro allora primo gruppo i condomini delle persone fisiche dell'edificio da 2 a 4 unità immobiliari quello che abbiamo chiamato più volte il condominio monoproprietario no c'è anche riferimento il comma 9 della lettera articolo 119 decreto rilancio per cui sappiamo benissimo quali sono questi soggetti e quindi il requisito soggettivo loro ti abbiamo detto cosa e quando anche gli interventi quindi eco bonus sisma bonus anche gli interventi di demolizione ricostruzione dice la bozza che rientrano nell'articolo 3 comma 1 lettera di del testo unico edilizia di pr380 quante volte ho detto guardate che abbiamo un limite superiore che non dovremmo oltrepassare chi è questa definizione di ristrutturazione edilizia se non l'avete visto se siete curiosi c'è un video approfondimento lo cercate nel mio canale allora rimane 110 fino al 31 dicembre 2023 addirittura quindi un bello allungo poi a scalare a decrescere 70 per cento 31 dicembre 2024 65 per cento 31 dicembre 2025 e la cessione del credito e sconto in fattura nella bozza c'è già l'allungamento contestuale cioè sono due aspetti nel super bonus aliquota e cessione credito stanno andando di pari passo quindi tranquilli non è solo una questione di aliquota ma mi hanno prorogato anche cessione del credito e sconto in fattura e voi dite perché dove scritto è scritto qua giù perché appunto anche i termini per la cessione del credito e sconto in fattura vengano prolungati vanno anche dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 quindi un bel fronte si comincia a dire allora anche per i condomini si comincia ad avere un orizzonte triquadriennale per pianificare bene l'intervento chiaro bisogna affrettarsi perché le aliquote sono decrescenti poi altra cosa la dico diciamo subito il fotovoltaico e le batterie al 110 con la cessione del credito ahimè la bozza attuale verrebbero interrotte al 30 giugno 2022 e questo lascia delle domande su è appetibile allora l'eco bonus 110 se mi viene a mancare un bel trainato vale anche per il sisma perché il fotovoltaico le batterie è trainato da tutte e due i rami eco e sisma speriamo che anche questo venga allungato un po di più il fotovoltaico ora affronterei la questione rovente delle persone fisiche le villettoni familiari eccetera che sta tenendo banco e sta un po agitando gli umori di tutti dove nasce tutto il conquibus comma 8 bis dell'articolo 119 viene sostituito a cosa da tutto questo ora io ho fatto un altro ragionamento un po che mi è stato fatto notare dai vari colleghi geometri architetti ingegneri ed è il seguente domanda legislatore ma se mi sostituisci dal primo di gennaio 2022 appena approvi la manovra economica me la metti in gazzetta mi togli questa versione di 8 bis che state vedendo voi ma allora che fine fanno tutti quegli interventi anche sulle uni familiari vi ricordate noi giochino ai tempo fino al 31 dicembre 2022 sì ma a condizione che mi faccia il sal stato avanzamento lavori al 60 per cento il 30 giugno in questo modo se me lo vai ad azzoppare cioè se mi sostituisci l'otto bis e mi ci metti quest'altro pippone e io mi domando ma e questi che hanno cominciato e che si trovano in mezzo ai guado che facciamo perché se no io ho questo interregno in cui mi hai fatto partire l'intervento o me l'hai fatto programmare o nel frattempo ho pagato tecnici per fare gli studi fattibilità le sanatorie le regolarizzazioni e poi il 2 di gennaio 2022 me lo levi e mi lasci solo non è che sparisce così mi fai solo una piccola clausola di salvezza ora un voglio di un diritto acquisito ma mi salvi solamente una parte di queste soprattutto le persone fisiche fisiche normali quindi non quelle del primo gruppo che sono dentro l'edificio da 2 a 4 unità però le persone fisiche normali ecco me le sostituisci e mi dici due cose guarda persona fisica hai tempo fino al 31 dicembre 2022 sì per l'unità immobiliare abitazione principale nonché isei a 25 mila euro ora a parte il fatto che sull'isea 25 mila euro ognuno la povere come gli pare ma credo che sia anche abbastanza facile superarlo per lo meno sapere tutta una serie interrogativi e non voglio fare ho già detto anche sul miei profili social che può insomma è un fattore molto limitante però qui non si parla solo di unifamiliari si sta concedendo 2022 la possibilità di fare questa cosa a condizione che sia unità immobiliare abitazione principale io ho letto sui giornali che sembra che riguardi solo le unifamiliare no no riguarda anche le villette a schiera riguarda qualunque tipologia non c'è solo riferimento alla unifamiliare nella bozza c'è la parola unifamiliare non c'è riferimento all'articolo 119 comma 1 dei trainanti ecobonus dove si fa riferimento all'unifamiliare no si fa riferimento quindi io anche su questo punto ho un po di perplessità a questo punto se siamo a suonare gli allarmi suoniamoli per bene diciamo guardate qui non sono a rischio solo interventi sulla villettina unifamiliare ma anche la villetta a schiera a questo punto rischia l'appartamento autonomo con funzionalmente indipendente no anche quello rischia di uscire perché perché non è la tipologia oggettiva ma è il requisito soggettivo che viene a mancare ecco non so se sono stato chiaro spero di sì però torna a dire il collo di bottiglia io ce l'ho non tanto per le tipologie di intervento degli immobili ma ce l'ho per il requisito soggettivo su cui il legislatore ci interviene eccezione alla regola cioè chi salva il legislatore salva solamente quelle persone fisiche che a prescindere di tutto quindi tipologia unifamiliare villettina schiera e quindi immobile funzionalmente indipendente con accesso autonomo ok loro vengano salvati sì ma a condizione fino al 31 dicembre ovviamente 2022 e tu entro il 30 settembre 2021 cioè di quest'anno tu abbia già presentato la cila o la pratica o avviata le relative pratiche anche per demolizione ricostruzione articolo di nuovo 3 comma 1 lettera di del testo di nuovo il legislatore lo rimartella questa definizione di ristrutturazione edilizia normale che abbiamo già detto più volte io vi faccio un altro ragionamento allora intanto di quale cila si parla ovviamente si parla della cilas siamo all'interno dell'articolo 119 mi ha inserito apposta la cila per il superbonus qui non ho dubbi che sia questo io ho un altro dubbio ma la cilas è stata inventata come mi ha fatto notare l'ingegnera claudia volontè che saluto mi ha fatto notare guarda che la cilas è stata inventata il col decreto 77 2021 è entrata in funzione the south dakota stories volume 5 she used to dread the winter the cold driving in the snow but that was before she started spending it in the right place now wandering the snow puts a smile on her face and breathing in the landscapes warms her spirit more than any coat because of south dakota taught her anything it's that it's never too cold to have too much fun there's so much south dakota so little time o perlomeno è stata istituita primo giugno 2021 poi è arrivato il modulo il 4 d'agosto ok però ci sono anche quelli che magari hanno presentato altre pratiche edilizie non demolizione ricostruzione normali magari con la cila ordinaria con la scia o col permesso e loro qui non si salvano dove sono loro qui dentro perché io non ce li vedo ecco quindi caro legislatore o chi lavora ai piani alti sarà il caso che voi questo articolo otto bis provate un sistema di agganciarlo meglio senza sostituirlo integralmente quello precedente o perlomeno ricordatevi che c'è gente che ha cominciato i lavori con altri titoli abilitativi prima della shilas o comunque prima del primo giugno 2021 perché se no rischiate di tagliare all'improvviso certa gente magari si è già mossa e ha già fatto delle procedure o che si troverà in difficoltà quando andrà a fare le varianti punto di domanda ecco perché ci starei un po in attentino correggere un po il tiro se mi passate il termine bene ultimo riferimento anche qui le acp e un certo tipo di cooperative ok 31 dicembre 2023 però comunque sal al 60 per cento entro il 30 giugno 2023 quindi una doppia condizione ok ripeto per tutte queste cose cessione del credito sconto un fattura super bonus perché appunto c'è anche la proroga di pari passo di tutte e due requisiti all'improvviso 110 più cessione del credito possiamo dire che è blindata la faccenda ora passiamo all'altro ramo categoria dei bonus edilizi minori bonus facciate a quanto pare bonus facciate scenderà nel 2022 quindi non sappiamo se c'è nel 2023 la bozza intenderebbe scendere dal 90 al 60 per cento di aliquota cessione del credito sconto un fattura ne parliamo un fondo idem è tornato un campo diciamo lo danno per sicuro il bonus ristrutturazione 50 per cento più il sisma bonus ordinario no 110 ordinario vi ricordate no 50 70 75 80 85 lui e gli hanno dato anche un orizzonte lungo 31 dicembre 2024 bello insomma un allungo triennale non fa male perché ho detto tutti sisma bonus ordinari perché se si va a leggere la bozza in fondo dell'attuale articolo 8 in qualche modo si fa riferimenti ci sono ai commi 1 1 bis 1 terre di cosa dell'articolo 16 decreto 63 2013 quello del bonus casa 50 per cento del sisma bonus ed eco bonus quello normale ordinario e la buona notizia appunto è che si rimettano in gioco tutte le varie tipologie di sisma bonus anche sisma bonus acquisti a questo punto andiamo avanti perché proprio la cessione credito ne riparliamo tra un pochino eco bonus 50 65 idem anche qui scadenza prorogata al 31 dicembre 2024 questo è quanto emergerebbe dalla bozza eccola qua veramente il punto importante cessione del credito sconto in fattura per i bonus edilizi minori è stata indicata come probabile io aspetto la conferma si sta dando per assodato e legislatore stia prorogando sì dei bonus edilizie minori tra l'altro c'è anche il bonus mobili ma non l'affrontiamo però ci sia anche la cessione del credito quindi le famose preghiere abbiamo fatto con qualche video precedente e con qualche articolo sono state ascoltate speriamo che venga tutto confermato e vediamo gli emendamenti però da qui esce un quadro abbastanza positivo se posso fare una specie di sintesi da questo punto di vista mi viene da dire che c'è una proroga lunga e favorevole per i condomini e questo un po il legislatore diciamo le statistiche non tanto il legislatore ce l'avevano scampanellato è anche vero che è più penalizzata la piccola proprietà quindi l'edificio unifamiliare la villetta schiera quindi l'unità autonoma quella veramente per ora da questo quadro ne uscirebbe penalizzata un po imprigionata o con delle criticità perché la norma verrebbe sostituita in corso d'opera all'improvviso e come al solito quando si fanno questo tipo di cambiamenti andrebbe fatta una migliore norma transitoria per chi ha già pianificato e programmato tutto altrimenti ripeto ci sono coloro che si erano già mossi le villettoni familiari per esempio per le villette a schiera per poter rientrare in questi termini rispettando i sal 60 per cento al 30 giugno 2022 e per concludere ultimare entro il 31 dicembre 2022 all'improvviso gli toglie il tappeto sottopiedi e gli cinfili quest'altra versione insomma non mi pare corretto in più si va a creare delle criticità e si va a togliere delle aspettative dalla mattina alla sera a persone si sono già mosse magari sono ferme perché hanno una sanatoria da finire un condono da tenere in rilascio insomma vediamo se il legislatore ascolta anche queste raccomandazioni queste osservazioni e appunto vediamo se aggiusta il tiro e soprattutto con gli emendamenti d'accordo ripeto è una bozza può cambiare tutto dalla mattina alla sera perché arriva fuori un'altra bozza cambiata magari in qualche altra sede la mia raccomandazione è teniamo gli occhi aperti a questo punto per a seguire tutti i lavori parlamentari nel soprattutto da tenere d'occhio gli emendamenti che vengono approvati non tutti gli emendamenti ma quegli emendamenti e vengano approvati nella apposita commissione bilancio questo veramente la raccomandazione dobbiamo solamente tenere gli occhi aperti perché è difficile pianificare a questo punto mi sento di dire che una prima sgrossatura una prima attenzione un exit pool da questo quadro esce un pole position ci abbiamo il super bonus per i condomini quegli altri la vedo dura ecco la vedo le villettoni familiari le villette a schiera magari vedo gli edifici quelli composti da 2 a 4 metà immobiliare in qualche modo si sono un po agganciati ai condomini loro diciamo hanno la possibilità di andare avanti come mi auguro e come auguro può a tutti a questo punto ci diamo un po i saluti fatemi sapere anche con i vostri commenti come vi muovete voi tecnici soprattutto geometri architetti ingegneri perché mi interessa sapere il vostro punto di vista se siete già operativi sulle villettoni familiari come l'affrontate come gestite quest'ansia e queste aspettative dei committenti perché ci stanno tenendo un po il fiato sui collo da questo punto di vista bene allora io che vi dico ci diamo un po saluti e ci diamo appuntamento alle prossime dirette e ai prossimi video un saluto da carlo pagliai e alla prossima e ci diamo appuntamento alle prossime Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable And your one stop shop for all your grocery needs Family Fair, in your neighborhood